Campana è incompatibile come consigliere comunale. La lista civica consiglia per Verbagna passa all'attacco e annuncia di voler mettere in discussione durante la riunione del Consiglio Comunale l'incompatibilità del capogruppo del Movimento 5 Stelle per aver presentato ricorso al TAR sulle delibere del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio dello scorso 21-22 febbraio. Campana aveva infatti contestato la regolarità della discussione e votazione dal momento che non erano presenti i revisori dei conti come invece previsto dal regolamento comunale. Spiega il capogruppo della lista civica Filippo Marinoni, vogliamo contestare la sopravvenuta incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale del Comune di Verbagna per lite pendente e insaurata da Campana in qualità di parte ricorrente. Prosegue Marinoni, come confermato anche dal segretario generale durante il Consiglio Comunale nel quale abbiamo approvato il bilancio di previsione, troviamo infondato il motivo del ricorso. I revisori dei conti avevano rilasciato il proprio positivo parere in via preventiva e pertanto la loro mancata partecipazione alle sedute del Consiglio non invalida le deliberazioni adottate per l'approvazione del bilancio. Replica il Movimento 5 Stelle. Gli esponenti della lista civica consiglia per Verbagna, Filippo Marinoni e Fausto Cavallini dopo un duro comunicato dove criticavano le lungaggini dei consigli comunali, l'inutilità di tante perdite di tempo chiedono un dibattito consigliare sul tema dell'incompatibilità del nostro consigliere. Ci viene il dubbio però che certe lungaggini del Consiglio Comunale proseguono i pentastellati. Per questo, come per altri casi, siano dovute anche al mancato approfondimento dei temi da parte di alcuni esponenti e ciò spiega perché consiglia per Verbagna voti sì a proposte del sindaco a cui chiunque con un po' di buon senso voterebbe no. Per quanto riguarda la presunta incompatibilità, sottolineano che essa, secondo la legge, l'incompatibilità non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. L'udienza del Tar è fissata per il 31 maggio.